ecco in questa immagine vediamo questo uovo al cui interno il bruco si sta un po' agitando vuol dire che è pronto per uscire appena il bruco esce dall'uovo per prima cosa divora il guscio che evidentemente contiene delle sostanze nutritive importanti poi una volta che l'ha mangiato tutto comincerà a nutrirsi delle foglie della pianta che lo ospita quel bruco appena nato è piccolo e nero poi a mano a mano che cresce cambia anche colore cambio colore perché cambia la pelle infatti la pelle non è tanto elastica e quindi la deve sostituire periodicamente a mano a mano che cresce il bruco è un gran maggiatore di foglie non provoca alcun danno all'agricoltura e mangia soprattutto di notte questo perché di giorno se ne sta immobile sulle foglie per evitare di attirare l'attenzione di eventuali predatori come per esempio gli uccelli che lo considerano un boccone prelibato quando il bruco si è completamente sviluppato ed è grande all'incirca come un dito mignolo va in cerca di un posticino tranquillo dove appendersi per affrontare la sua metamorfosi in questo caso si è legato a un rametto con una cintura di seta che lui stesso ha tessuto esattamente come fanno i ragni con la loro tela ma adesso silenzio perché la farfalla sta per nascere ecco con le zampette si sta aiutando ecco che piano piano esce vedete le ali come sono piccole e poi una volta che è uscita dalla crisalide lascia distendere le ali come vedete anche questa immagine è accelerata in realtà ci mette circa un'ora per distendere completamente le ali vedete ecco che le ali stanno raggiungendo le dimensioni normali l'estensione avviene pompando la linfa nelle nervature ciao bambini vi è piaciuto questo video a me tantissimo è davvero straordinaria la storia della farfalla quante trasformazioni fa questo esserino è un bruco e poi una farfalla oppure il contrario è prima una farfalla e poi un bruco aiuto non me lo ricordo e voi in allegato trovate i disegni del bruco e della farfalla chi può lo stampa e poi colora i disegni li ritaglia e li mette in ordine che cosa viene prima e che cosa viene dopo chi invece non ha la possibilità di stampare dovrà fare i disegni del bruco e della farfalla naturalmente in ordine che cosa viene prima il bruco la farfalla ciao bambini alla prossima attività ciao ciao